Ciao bambini, oggi ci troviamo qua con nonno Arturo per fare un lavoretto manuale. Ma chissà dov'è nonno Arturo, perché non sai mai quando serve. Nonno Arturo? Sì? Nonno Arturo, ma ci metti sempre cent'anni per salire su un tavolo? Centotre! Sì, hai centotre anni, sì, va bene. Sì, sali però. Ciao bambini! Eccoti qua finalmente! Dimmi un po', ma ti piace la neve? Ma non me l'hai chiesto già la settimana scorsa? Non me lo ricordo se te l'ho chiesto. Me l'hai chiesto la settimana scorsa? Guarda che io sono vecchio, ma non sono mica scemo! Sono vecchio, ma non sono scemo! Ma cominciamo bene la giornata! Ma guarda qui! Mi dice che sono scemo! Mi ha detto, oh bambini, l'avete sentita anche voi? L'avete sentita? No, no! Ha detto che sono scemo! Mi ha chiesto la settimana scorsa, mi ha chiesto se mi faceva la neve, gli ho detto sì! E lei cosa mi dice? Nonno, calmati! Nonno Arturo! Ma guarda, ma che tipo! Ma mi ha scelto la giobbella! Ma mi ha già fatto arrabbiare! Guarda, ho l'ulcera adesso! Ma sì, l'ulcera! Per colpa tua! Calmati che ci sono i bambini a casa! Ciao bambini! Ecco, perché ti ho chiesto se ti piace la neve? Perché vogliamo fare un lavoretto in cui creiamo dei fiocchi di neve! No! Eh già! Che bello! Perché in che stagione siamo? Estate! No! 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 In che stagione siamo? Ma scusa, al benzinaio c'era uno con i pantaloncini corti ieri, l'ho visto! Eh, ma non vuol dire che è estate! Forse lui aveva caldo! Era il sguizzo tedesco? È per quello, loro hanno sempre caldo! Ah, è vero! E invece in che stagione siamo se c'è la neve? La neve! Eh! Si dice la neve non fa primavera! Bravo, non siamo in primavera! Hai visto? Non è estate, non è primavera, allora cosa resta? Allora, io ho messo le mutande rosse, quindi autunno! Rosso, autunno! No! Le mutande rosse si mettono a Capodanno! A Capodanno? Ma mica le ho cambiate ancora? Eh, poverino, ma chissà che puzza! Ma scusa, vanno cambiate ogni giorno? Sì, le mutande vanno cambiate ogni giorno! No! Ma va! Chissà che puzza! Mi viene un po' la nausea! Eh beh, vabbè, non ci penso! Allora, nonno Arturo! Nonno Arturo, siamo... Cosa fai? L'odore delle mutande! Sì, sono le tue! Ascolta, allora, non siamo in autunno e quindi cosa resta? Siamo in... Non siamo in primavera! Non siamo in estate, non siamo in autunno, siamo in... Fa rima con moderno? Sì! Eh, non lo so! Inverno! 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 Bravissimo! Oh, bambini, un applauso! Ah, no, no! Bravissima! Bravissima! Ah, grazie, era per me l'applauso! No, no, Flavia! Veramente brava! Guarda, quattro stagioni e le sai tutte e quattro! Eh beh, sono quattro stagioni, non è che ce ne sono tante! La so anch'io! Cosa? Ah, la musica delle quattro stagioni! Sì, è vero! Adesso però, ascolta... Che stagione è? Non lo so! Ah, lo so io! Lo so io! E cos'è? Inverno! Primavera! Siamo in inverno, devi mettere... È la famosa primavera di Beethoven! Va bene, va bene! Adesso ti sei calmato? Perché va bene, era Vivaldi! Ma non lo so! Ma non studia, non studia, ragazzi! Vivaldi! Le quattro, quattro stagioni di Vivaldi! Io lo so e lei non lo sa! L'ho detto prima di te, ma tu non l'hai ascoltato! Vabbè, vabbè, vabbè! Ecco, allora... Dobbiamo disegnare? Eh sì, adesso stai bene attento a cosa ci serve! Io sono sempre attento! Foglio bianco! Ti piacciono i miei capelli alla Trump? Sì, mi piace! Ma lo sai? Lo sai che non è più presidente? Lo so, ma adesso dobbiamo fare il lavoretto! Ma io sono triste, perché prima guardavo la televisione e lui ha i capelli come i miei! È molto contento! Ah beh, bellissimo, sì, sono contenta! Ma perché ridi? Bambini, secondo me le matti! Posso fare il lavoretto? Tu sei matto, sì! Vorrei fare il mio lavoretto, posso farlo? Allora, ci vogliono i fogli bianchi! No! Guardate! C'ha i fogli bianchi! I miei sono tutti sporchi, neri! Lei ce l'ha ancora bianchi! E certo, tu cosa hai fatto con i fogli neri? Ma allora a casa tua, chi è che fa le pulizie? Io! Chi vuole che le fa le pulizie? Allora sei brava! Perché a casa mia, la mia moglie non c'è più! No, no, mi dispiace, non piangere! No, veramente, sono triste! Sì, lo vedo che si... No, mi manca! Sì, ho capito, ma cosa c'è? Chi le fa le pulizie? Tu! Eh, allora è lì il problema! È un grosso problema, sì! Allora, adesso facciamo il lavoretto, posso continuare? Pennarelli blu o celesti? Scusa, perché sono due? Uno è mio, eh! Appunto, uno è per te, ma sì, e ne ho portati due apposta! Ecco, posso disegnare! Attento che adesso disegniamo, eh! Devi disegnare un cerchio! Non sputare, un cerchio, guarda! Ma voglio vedere a te a mangiare i cappucci! Tu mangi i cappuccini e io non posso mangiare i cappucci! No, i cappuccini non si mangiano, si bevono i cappuccini! Ecco, perché mi rimaneva indigesto! Ecco, guarda io come... Bisogna mangiare, bisogna berlo? Sì, bisogna berlo! Oh là là, allora lo bevo! Ma no, non il pennarello! Ah no? Il cappuccino! Ma oggi non ci stai con la testa, eh! No, io non ci sto, perché tu ci stai! Senti, ci hai fatto un cerchietto! Adesso, lascia stare il mio cerchio! Allora, facciamo un cerchio, fai il cerchio! Ah, ce l'ho anch'io il foglio! Eh sì, te l'ho dato! Ma che bello! Sì, non i capelli, il cerchio devi fare! Guarda il mio com'è bello circolare! Però è un po' piccolo, eh! Più grande? Sì, fallo più grande! Gira il foglio! C'ho un po' le mani legate! Ecco, fai il cerchio bello grande! Eccolo! La patata hai fatto, vabbè! La patata è buona! Sì, è buona nonno, però non bisogna fare la patata! Aspetta però, guarda! La patata che ride! La patata che ride! Falla vedere ragazzini! Facciamo vedere la patata che ride! La patata che ride! Però noi dobbiamo fare un cerchio! Allora, faccio io, tu guarda! Ok! Adesso, l'ho fatto, guarda che bello! Adesso lo ritagliamo! No, aspetta! Non fa il male con le forbici! No, perché ho le forbici! Bambini, attacchiamo le forbici! Ah, quelle per bambini? Sì! Oh, che bello! Ma sei preparatissima! Eh, certo, eh! Se dobbiamo lavorare con i bambini, bisogna essere preparati! No, per ciugare il mio foglio! Io sono vecchio! Allora non te le do le decorazioni! Ma non sono mica, come dire, incredibile! Guarda che bel cerchio che abbiamo fatto! Bello! Adesso lo pieghiamo! È tondo come il sole! Adesso lo pieghiamo, lo pieghiamo, spostiamo un po' così si vede bene! Facciamo tante piegature! Bello! Io faccio la stella, eh! Ma cosa aspetta, aspetta, guarda cosa devi fare! Ma io mi distraggo! E adesso, con la forbice, facciamo... Attenta, a non farti male! No! No, non lo tagliare! Facciamo dei cerchi, guarda, guarda che bello! Dei cerchi, si può fare... Ma che cerchi, non sono cerchi! Un mezzoceno, così... Un mezzoceno, così... Adesso vedrai... Dei zigzag... Ragazzi, secondo me ci sta prendendo in giro, Flavia! Ma no, guarda che bello! Ma cos'è, un aeroplanino spaziale? No, può sembrare, ma non lo è! Secondo me è un aracletto! Volevo fare un cuore! Ti piace l'aracletto? Invece del couscous? Cos'è che ti sei inventata? Io ho mangiato il couscous a cena! Sì! Era buono il couscous! Una pappa era! Una pappa! Troppo cotto! Adesso guarda, ho fatto tutti gli intagli, vedi? Che bello! Vedi che lo ho intagliato un po'. Questo... Dobbiamo tagliarlo un po' di più però, eh, non Arturo? Sennò non esce niente. Ma è una stellina di Natale? Guarda, adesso l'apriamo... No! Guarda che meraviglia! Guarda! No, è bellissimo! Guarda che bello! Sai cosa mi ricorda? Cosa sembrano? Lo zerbino di casa mia dopo che sono arrivati i topi che l'ha mangiato tutta! Come sai, Simpa? I topi hanno mangiato! No, questo è un fiocco di neve! Come sai? Può fare tutta la ghirlanda di fiocchi di neve! Sei romantica! Io sì tanto! Oppure lo attacchiamo sul vetro, così si vede che è inverno! Come si chiama il tuo fidanzato? Eh, non si dice! Oh, segreto! Vuoi sapere troppo, eh! Bambini, la prossima volta, quando esce dagli studi, io la seguo, eh! Di nascosto! Mi segui! Però il problema... Voglio vedere come mi segui di nascosto! Il problema è che lei mi riconosce sempre con i capelli arancioni! Perché è tipo un allarme, no? Hai presente i blinker lì, le doppie frecce che fanno... Sì, che fanno un bling, bling, bling! Ecco, i miei capelli sono come dire... Nonno Arturo! Ecco, bravo, nonno Arturo, ti è piaciuto il lavoro? Infatti, è per quello che Trump va sempre con l'elicottero, così non lo vede nessuno, eh! Eh già! Però lo sentono! Vai proprio a ridere! Va bene, allora... Sono vecchio ma non sono scemo! No, è vecchio ma non è scemo, però non si dicono queste parole! Scemo è una parolaccia? Eh, non è così bello, ne ha bimbi! È stupido! Ancora peggio! Ancora peggio! Tonto! Anche quello non è bello! No, no! Diciamo che non... Vabbè, allora ho solo pregi! Eh, solo pregi, sì, sì! Ah, aia, aia, aia! Cosa mi strozzo, mi stritto lì la mano? Eh, ma io ho la mano forte, sono vecchio ma non sono debole, eh! Sì, allora hai capito come si fa il lavoretto? Rispiega ai bambini a casa! Allora ve lo spiego io! Vediamo, eh! Prendete un foglio e disegnate una patata a forma di cerchio! No, un cerchio! Un cerchio, però non una patata! Non una patata! Poi, guarda, lo faccio io, te lo faccio vedere, eh! Ti faccio vedere, guarda, te lo faccio vedere! Ma cosa stai facendo? Ma guarda, è facile, lo pieghi a metà! Sì, proprio così, sì! Poi, lo ripieghi ancora a metà! Sì! È bello, eh! Bellissimo, ma non hai tagliato il cerchio! Aspetta, ora lo taglio io, guarda, dammi la forbice! Sì! Dammi la forbice! Taglialo! Dammi la forbice! Ma dovevi tagliarlo prima! Ma cosa devo tagliare prima? Non è vero! Se non lo tagli prima non ti esce il cerchio! Ma sì che mi esce! Guarda, guarda! Adesso guarda! Eh, c'ho un po' di problemi con la forbice! Ma che faccio... Ma anche ti fai male, la forbice si va tenuta bene! Eh, lo fai tu che è più brava, sei più brava! Sì, ma non l'hai fatto bene! Così non va bene, che faccio uguale! Vabbè, ma io sono vecchio! Guarda, toh! Guarda, facciamo... Ecco, ecco! E io lo stavo facendo uguale! Sì, ma non esce come il mio! Ma è più bello il mio! Eh, guarda qua! Guarda, vedi? Una maschera di carnevale! Bambini, guardate! Questo è carnevale! Bambini, secondo voi qual è più bello? Lo zerbino o la maschera di carnevale? Carnevale, ha vinto carnevale! No, allora, io direi che i bambini ce lo dicono sulla nostra pagina Facebook. Vi aspettiamo! Nonno Arturo! Nonno Arturo è stanco, si è dormitato! Nonno Arturo saluta però prima di dormire! Ciao bambini! Ci vediamo alla prossima puntata! Cioè, domenica prossima, sempre alle 18! Sulla 4 Ticino Web TV! Ciao, ciao! Non russare! Dorme! No, russa ancora! Non russare! Ciao! No, russa ancora! 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 Grazie.